Amici del Sagittario, adesso tocca a voi. Allora, settimana dal 25 al 31 ottobre 2021. Un po' difficilina la settimana prossima. Devo concentrarmi perché devo spiegarvi alcune cose. Allora, ho dovuto dividere chiaramente i segni zodiacali, lo dico anche a voi, per cercare, insomma, di facilitarmi anche nel mio lavoro e perché diventa, insomma, pesante farli tutti quanti il fine settimana. Quindi magari qualche volta vi troverete all'inizio settimana, altre volte verso la fine, a secondo di come li divederò. Però farò 4, 4 e 4 per la settimana. Infatti mi sono trovata giusto in tempo. Passo subito con la vostra settimana e vi dico che la vostra energia che entrerete, la settimana, oddio, mi sono persa via, entrerete nella prossima settimana con un'energia di tanta sofferenza nell'anima. E' come se avete fallito in qualcosa, in qualcosa che vi porta comunque sia angoscia, come se c'è stata una perdita, una fine di qualcosa. E quindi voi dentro state soffrendo, non state bene. Questa è l'energia in generale per tutti voi del segno. Chiaramente può essere nell'ambito sentimentale, nell'ambito familiare, nell'ambito anche lavorativo o di amicizie. La vostra settimana sarà con qualche piccolo problema economico oppure qualche piccolo problema in campo sentimentale. Quindi per alcuni di voi problemi economici, per altri di voi problemi sentimentali. Dovete percorrere delle nuove strade. Non potete più soffermarvi sulla strada che state continuando a seguire. Le nuove strade magari vi possono sembrare difficoltose, vi possono sembrare magari dove avete dei dubbi, avete qualcosa che non vi convince. Ma in realtà proprio quelle strade che dovete prendere e che ancora non prendete, si riveleranno fruttuose, vittoriose e vi faranno bene alla vostra vita. Ma voi però ancora non lo fate, vi state proprio ostinando perché da diverso tempo che io ve lo sto dicendo. Avrete delle delusioni in famiglia su discorsi che andrete a fare, che saranno dei discorsi spiacevoli e quindi vi deluderanno perché non pensavate assolutamente. Dovete uscire proprio dal vostro mondo, dovete guardare perché voi vi siete creati il vostro mondo, le vostre idee, il vostro tutto e da quel mondo non vi smuovete. Dovete in realtà guardare in faccia la realtà perché non è quella che voi immaginate. Dietro quel vivere sulle nuvole, quindi dietro al vostro mondo, se vi affacciate vi renderete conto che c'è un'altra verità che voi, ripeto, non volete assolutamente accettare. Ci possono essere delle rotture di legami perché siete ancora legati a un qualcosa che non esiste più, siete ancora legati a qualcosa di un passato, cercate di tenerla in piedi a tutti i costi, ma questa cosa ormai non esiste, cioè ve ne dovete fare una ragione. Avete avuto proprio da quelle situazioni del passato, avete avuto tradimenti, vi siete sentiti traditi sotto ogni punto di vista, ma non parlo, ripeto, di tradimenti a livello di corna, parlo proprio di persone che vi hanno ferito e alle volte non ve ne rendevate neanche conto, cioè buttavate quello che vi succedeva, buttavate alle spalle e continuate ancora a vivere in questo genere di vita perché non volete affacciarvi alla realtà, è come se fosse che siete voi stessi che non volete vivere una vita migliore. In realtà le nuove strade per voi, cioè ripeto, vi porteranno comunque sia alla felicità. Dovete pensare quindi a fare dei progetti nuovi per voi stessi, per la vostra vita, perché comunque le carte, le cose andranno bene, perché me lo dicono le carte. Per voi è un periodo fertile, potrebbe esserci la nascita di un figlio, potrebbe esserci anche magari una relazione dove avete litigato, dove c'è stata una rottura, che si riprende e si riprende in un modo nuovo, in un modo bellissimo, come potrebbe esserci magari l'incontro con una nuova persona. Siete in pratica in un periodo dove potete sconfiggere tutte le avversità che sono intorno, comprese magari anche a quelle problematiche di coppia per chi è in coppia, ma lo dovete volere voi, dovete voi fare quel passo in più, prendere questa benedetta decisione, fare i progetti per la vostra vita, per il vostro futuro e andare avanti, e lasciar perdere quello che è stato il passato. Il problema è proprio questo, che non riuscite proprio a prendere delle decisioni, vi sentite insicuri, dubitate ancora, avete dubbi ancora su migliaia e migliaia di cose, avete la possibilità, ve lo torno a ripetere, di essere felici, chiaramente è normale, dovete stravolgere completamente la vostra vita, dovete stare bene anche in coppia, cioè quindi lo stravolgimento di tante cose, vi fa star bene sotto qualsiasi punto di vista, a voi stessi in primis, perché voi comunque siete delle persone dove meritate un rispetto, e siete voi stessi che dovete rispettarvi, quindi è giusto, ripeto, pensare a voi e pensare alla vostra vita, se siete in coppia, questo cambio di rotta, questo stravolgimento, può far bene anche alla coppia, quindi tenerla ancora più unita, se siete single, lo stravolgimento della vostra vita, può dare in modo che chi andate a incontrare, può essere chiaramente qualcuno, che vi faccia bene per un futuro, cioè, ripeto, è una possibilità che vi sta dando, la dovete cogliere, è già da diverso tempo, che io ve lo sto dicendo, che le carte me lo stanno dicendo, ok, quindi potreste avere nuove relazioni, il vecchio amore che rinasce, potete avere tante cose positive, ma dovete cambiare rotta, dovete dimenticare, dimenticare, lasciar perdere quello che c'è stato in passato, ok, ed essere, pensare un po' a voi stessi, pensare a voi stessi è inteso, essere egoisti, scusatemi per questo gioco di parole, perché non voglio che venga interpretato, essere egoisti per quelli che sono i progetti, ma non dovete essere egoisti, e pensare solo a voi stessi, nel senso chiudervi e continuare a vivere nella vita che state vivendo, ma essere egoisti per un qualcosa, per gli obiettivi, per le cose future, per le cose belle, non egoisti dove siete intrappolati, perché se continuate a rimanere nella situazione, in cui siete intrappolati, perché avete paura di sbagliare, perché avete paura di andare avanti, perché avete paura che è sbagliato quello che magari andate a fare nuovo, ragazzi, avete soltanto conflitti e litigi, avete delle situazioni, cioè vi porterà il rimanere intrappolati, in quelle situazioni tossiche, vi porterà a situazioni negative, conflitti, litigi, allontanamenti, coppie che si distruggono, cioè vi porterà a questo, comunque nella settimana, ci sono comunicazioni per voi, ci sono delle novità per voi, il consiglio delle nostre carte, è che proprio avete difficoltà nel prendere questa benedetta decisione, certo, sì, state riflettendo, però dovete decidere il più in fretta possibile, perché per voi sta arrivando la possibilità di cambiare rotta, ve la si sta dando già da tre settimane, se non cambiate rotta e non pensate a quello che è giusto per il futuro e non vi affrettate, non potete quindi avere la pace, la tranquillità, la gioia, la serenità, se continuate a perder tempo in questa benedetta decisione, va a finire che rimanete legati in un periodo negativo che si sta avvicinando, perché le possibilità insomma non è che sono eterne, vi si dà la possibilità, ma vi avevo anche detto che dovevate cogliere questa possibilità, quindi o cercate di trovare un'alternativa per togliervi da questo intrappolamento, se si può dire dove siete intrappolati, ok, e cercate di fare un passo per il futuro, pensando ripeto a quello che è giusto per voi, per il vostro futuro, o altrimenti arriverà questo momento di negatività, di difficoltà che è proprio ostacola, ma ostacola voi, ostacola la famiglia, ostacola tutte le persone che ci sono intorno, state trascurando tantissimo il vostro partner, state trascurando proprio l'amore, e l'amore in realtà va protetto, lì dove c'è vero amore, in realtà va protetto, va protetto perché se non volete essere lasciati, cioè vedete un po' voi, perché state prendendo quella direzione, l'essere mandati a quel paese, perché la persona comunque sia, si è stancata, quindi avete, ripeto, decisioni da prendere, abolire tutte le difficoltà che in questo momento ci sono, perché già ce ne sono, già vivete in una situazione e comunque no, dovete pensare al futuro, quindi pensare alla vostra vita e fare questo passo in più, quindi, cioè sono cose che dovete fare, se poi invece vi va bene, perché vi fa comodo vivere in questa situazione, in quella che state vivendo, senza trovare una soluzione, senza prendere una decisione, senza fare nulla, ripeto, il consiglio che le carte mi danno, decidete in fretta, altrimenti su di voi sta arrivando un periodo negativo, che vi porterà soltanto, non dico al disastro, però vi causerà situazioni, molte situazioni negative, e conflitti, litigi, allontanamenti per chi è in coppia, insomma, chi più ne ha, più ne mette, problemi economici anche, cioè quindi, cercate di guardare in faccia la realtà, io vi ringrazio, auguro una buona domenica, buon proseguimento di giornata a tutti voi, per i nuovi chiaramente, che si troveranno a passare dal canale, vi invito a iscrivervi, a spuntare la campanellina, per rimanere, scusatemi, sempre aggiornati, per quanto riguarda quelli già iscritti, vi ringrazio, continuate a mettere like, supportate il canale, scrivetemi, commentatemi, chiedetemi se eventualmente avete bisogno, di una stesa, di un interattivo in particolare, su magari degli argomenti, che vi interessa sapere, io sono qua, e se avete bisogno di un consulto privato, di informazioni, sulla voce informazione del mio canale, ci sono i miei due numeri di telefono, scrivetevi su whatsapp, e insomma, fatemi sapere un po', ok? Vi ringrazio, e vi auguro un buon tutto, buon inizio settimana per domani, a presto!